L'accoglienza per le vie di Madrid conferma i sondaggi e lo smacco a Babbo Natale. Qui in Spagna i bambini continuano a preferirli i re magi, ambasciatori di buon umore e regali, che pur avendo rinunciato ai cammelli per i più pratici mezzi, continuano a sfilare ormai da generazioni. Oggi e domani sono giorni speciali, questa è una serata magica, ci venivamo già quando eravamo piccoli e ora ci portiamo i nostri bambini. Meno poesie e più pragmatismo invece tra i più piccoli, che dicono sì di apprezzare i re magi ma per i regali che portano. Attenzione però perché al pari di quelli della Befana Nostrana anche gli omaggi di Baldassarre e compagni sono tutt'altro che incondizionati e per quanto in molti provino a corromperli con dolci e torte, ai cattivi portano solo carbone.